Incontro nel Cineteatro Mangiatordi di Altamura per discutere di economia ma anche di sistema legislativo. L'incontro è stato organizzato dall'Associazione Pari Opportunità nelle Professioni. Abbiamo con noi l'Avvocato Ornella Fiore. Il motivo di questo incontro? Era per affrontare il tema della giustizia e dell'efficienza organizzativa nei tribunali. Il problema è l'efficienza del tribunale e dell'impresa. Abbiamo avuto anche un rappresentante della Confartigianato che parlasse della paura anche dell'impresa di proporre e di andare in tribunale per far valere i loro diritti. E quindi tutta la problematica è legata alla lungaggine processuale e all'organizzazione. Abbiamo avuto il Presidente della Corte d'Appello di Bari, Francesco Cassano, che ha spiegato tutti i vari aspetti, le criticità ma anche gli aspetti positivi che in questi ultimi anni per fortuna ci sono stati e sono stati tanti. Quindi un po' tra le riforme, un po' con una giusta organizzazione, grazie ai Presidenti che ha saputo organizzare bene tutto il tribunale, molti hanno potuto soffrire anche in maniera positiva, anche noi avvocati e di conseguenza i clienti. Abbiamo avuto il Presidente del Tribunale di Taranto, Franco Luca Fò, che ha parlato poi della situazione del distretto di Brindisi. A moderare l'incontro è l'avvocato Francesco Logrieco, che è il Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense. C'è un problema di lentezza delle procedure, c'è un problema di durata delle cause e ormai è un dato acquisito che la giustizia non è una variabile indipendente rispetto all'economia, ma incide direttamente e fortemente sullo sviluppo economico di un paese. Questo soprattutto non solo perché la rapidità dello svolgimento delle procedure consente il recupero celere dei crediti, ad esempio, in favore degli imprenditori, ma soprattutto perché una giustizia che funziona invoglia anche gli investimenti dall'estero. E questo è un dato ormai acquisito e accertato. È la ragione per cui l'Italia è in sofferenza, è la ragione per cui tra i paesi occidentali, che di solito si collocano nei primi 50 posti al mondo, l'Italia invece viaggia tra il 76esimo e l'ottantesimo posto. Quindi siamo messi male, come si suol dire. Siamo messi male, ma stiamo recuperando. In qualche modo negli ultimi anni si stanno facendo grossi progressi. Basti dire che dal 2012 ad oggi l'arretrato in materia civile si è sostanzialmente dimezzato, passando a poco più, parlo dell'intero distretto di Corte d'Appello di Bari, quindi Tribunali di Foggia, Trani, Bari e Corte d'Appello di Bari, le pendenze sono diminuite della metà sostanzialmente. Si attestano intorno alle 180.000 procedure complessive, con una durata per ogni procedura media che ormai si attesta su valori assolutamente accettabili su standard europei. tanto come l'esito di quei...